Erano in tre, due sono entrati a volto coperto e armati di trincetto, l'altro è rimasto in macchina pronto per far scattare il piano di fuga. Ma i banditi che questa mattina, poco dopo le 9 e un quarto, hanno preso di mira la filiale di Viale Puccini della Banca del Monte, avevano fatto male i loro conti. Un testimone ha visto la scena annotando il numero di targa dell'Audi A3 grigia utilizzata per scappare. E la caccia all'uomo messa in atto dalla polizia ha avuto buon esito. In manette sono finite tre persone, tutte residenti a Torino. Massimiliano, veterano, 25 anni, Annibale Veneruso, 27 e Davide Nardi, 35. Secondo gli investigatori era lui alla guida dell'auto, intercettata e bloccata dalle pattuglie della polizia stradale, a mezz'ora dal colpo dopo un inseguimento in autostrada. Decisive per gli investigatori le informazioni raccolte dopo la rapina. Un'operazione congiunta fra la questura, i comandi della polizia stradale di Lucca e la Spezia e la sottosezione di Viareggio, che si è conclusa con la cattura dei fuggitivi. La loro auto, una volta individuata anche con l'aiuto di un elicottero, è stata bloccata sulla 12 all'altezza di Vezzano Ligure. Parte del bottino circa 11 mila euro. I rapinatori lo avevano perso prima della fuga. Il resto è stato recuperato a bordo dell'auto e già riconsegnato alla banca. Schiaccianti le prove a loro carico, gli agenti hanno rinvenuto una mazzetta di denaro con gli stessi numeri di serie di una fotocopia in possesso della banca. Dalle immagini a circuito chiuso, acquisite in mattinata, anche gli abiti sono gli stessi, compresi gli oggetti utilizzati per il travisamento, anche questi trovati nell'auto. Soddisfatto il questore Claudio Cracovia. Un'operazione brillante, ha sottolineato in conferenza stampa, resa possibile grazie al coordinamento fra le varie specialità della Polizia di Stato e ad un'azione tempestiva non appena ricevuto l'allarme.